Per quanto riguarda la manovra, qual è la posizione di Forza Italia e gli emendamenti? Come vi muoverete nel passaggio parlamentare? Allora, questa è una manovra che noi abbiamo definito di necessità virtù, cioè abbiamo fatto, viste le condizioni date, quello che poteva essere necessario nel miglior modo possibile, in modo più virtuoso possibile. Era una manovra responsabile, se vogliamo, matura, che tiene i conti in ordine e che però cerca di guardare alle categorie più fragili. Forza Italia in Parlamento cercherà di migliorare, di rafforzare questa manovra, soprattutto partendo da quelle che sono le decontribuzioni, quindi l'aumento della platea, le decontribuzioni nelle nuove assunzioni dei giovani, le pensioni minime e il comparto sicurezza.